23 agosto 20 morti, 250 dispersi, 15 agosto 2 morti, 22 agosto 1 morto, 4 agosto 2 morti, 175 dispersi, 30 luglio 2014, 4 morti, 128 dispersi, 29 luglio 2014, un morto, 22 luglio 2014, 181 dispersi, 21 luglio 2014, 5 morti, 15 dispersi, 19 luglio 2014, 30 morti, 15 luglio 2014, 14 luglio 2014, 109 dispersi, 13 luglio 2014, 4 morti, 27 dispersi, 11 luglio 2014, 2 morti, 20 dispersi, 6 luglio 2014, 15 morti, 235 dispersi, 2 luglio 2014, 45 morti, 81 dispersi, 13 giugno 2014, un disperso, 14 luglio 2014, 10 morti, 16 luglio 2014, un morto, 28 luglio 2014, 250 morti, 30 luglio 2014, 30 morti. 9 luglio 2014, 3 morti, 2 dispersi, 2 luglio 2014, 17 morti, 5 luglio 2014, 25 luglio 2014, 22 morti, 7 luglio 2014, un morto, 11 luglio 2014, 40 morti, 25 luglio 2014, un morto, 28 luglio 2014, un disperso, 3 luglio 2014, 15 luglio 2014, 15 luglio 2014, 25 luglio 2014, 15 luglio 2014, 10 luglio 2014, 2 morti, 12 luglio 2014, 25 luglio 2014, 25 luglio 2014, 25 luglio 2014, 15 luglio 2014, 25 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 luglio 2014, 8 marzo 2014, un morto, 18 marzo 2014, 7 morti, 2 dispersi, 2 morti, 19 febbraio 2014, 6 febbraio 2014, 14 morti, 3 febbraio 2014, un morto. 21 gennaio, 12 morti, 15 novembre 2013, 12 morti, 2 dicembre 2013, 3 morti, 11 dicembre 2013, un disperso, 2 gennaio 2014, un morto, 19 gennaio 2014, 12 morti, 20 gennaio 2014, un morto. 11 ottobre 2013, 268 morti, 3 ottobre 2013, 368 morti. Grazie. 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 Grazie.